Nella mattinata di oggi a Cava dei Tirreni sono state eseguite 14 ordinanze di custodia cautelare per associazione a delinquere di stampo camorristico, associazione semplice, usura pluri aggravata, estorsione aggravata dal metodo mafioso, associazione finalizzata alla vendita e cessione di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi da sparo. L'operazione, eseguita sotto la direzione ed il coordinamento della DDA di Salerno, costituisce il completamento di una lunga e complessa indagine iniziata nel novembre 2015, che ha portato ad accertare l'esistenza di tre distinti sodalizi criminosi operanti sul territorio di Cava dei Tirreni, che avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo si sono macchiati di vari reati. Si è scoperto inoltre che alcuni soggetti criminali erano in allarmanti relazioni con esponenti delle forze di polizia e delle istituzioni locali. A dimostrazione è la tesi della Procura della Repubblica della capacità di esercitare un controllo penetrante sul territorio di Cava dei Tirreni.